Stamattina il sopralluogo dell'ASL e il locale con qualche accorgimento è risultato idoneo. La sala incontri dell'Unione Montana-Valleossola-Domodossola potrebbe diventare centro vaccinale. In questo spazio potrebbero essere spostate le somministrazioni ad oggi effettuate all'ospedale San Biagio per favorire la ripresa dell'attività ordinaria presso il nosocomio. Ultimo step dovrebbe essere prossimamente l'incontro del direttore generale dell'azienda sanitaria Chiara Serpieri con la proprietà. Ma il presidente dell'Unione Bruno Toscani ha già anticipato per quanto ci riguarda siamo felici di poter dare una mano mettendo a disposizione per il tempo necessario il locale dando un aiuto così come già abbiamo fatto nei mesi passati con il macchinario per processare i tamponi. Intanto ieri sera dalla Regione Piemonte la comunicazione dell'anticipo della preadesione alla vaccinazione Covid per gli over 40 da lunedì prossimo 17 maggio potrà aderire sul portale www.ilpiemontetivaccina.it la fascia 45-49 anni e da venerdì 21 maggio la fascia 40-44 anni. Il punto sulla campagna vaccinale nell'Asl VCO a oltre un terzo della popolazione over 16 è stata somministrata almeno la prima dose. Più di 75.500 le dosi iniettate, 23.700 persone sono già coperte con la doppia. Chiamati tutti gli over 70 e gli over 80 che hanno aderito salvo sporadici casi. Quasi 6.000 le dosi somministrate agli over 60 pari alla metà circa degli eventi diritto. 7.000 le dosi al momento iniettate ai vulnerabili, 2.100 ai caregiver. Sono sempre più di 1.000 al giorno i vaccini somministrati. Per quanto riguarda i nuovi punti vaccinali, da lunedì scorso attivo quello di San Maurizio d'Opaglio, territorio di competenza dell'Asl VCO. Prossimamente si vaccinerà a Bagnanzino, dopo quanto fatto settimana scorsa a Macugnaga, e attesa l'apertura di un centro anche a Stresa. Segnaliamo infine per quanto riguarda l'attività ordinaria dell'azienda sanitaria che sono ripartiti lunedì scorso i prelievi del sangue previa prenotazione. Dalle 7.30 alle 11 hanno l'accesso diretto al servizio invece i pazienti oncologici, urgentità o le donne in gravidanza. Grazie. Grazie.